Il primo colpo da mettere a segno è quello dell'allenatore. Ci stanno lavorando senza soluzione di continuità il DS Dellicarri ed il presidente Sebastiani, poi la squadra, la rosa, gli acquisti, le eccessioni. Il primo tassello è quello del tecnico dopo la separazione consensuale con Emmanuel Cascione che ha fatto bene ma non benissimo. Con Luciano Campitelli al suo fianco, Sebastiani si sente più forte e pronto a progettare una stagione importante. Per questo la scelta del tecnico è fondamentale. Sul tacquino del DS Dellicarri ci sono diversi nominativi. L'ultimo appuntato nelle scorse ore è quello di Vincenzo Cangerosi, ex storico vice di Zdenek Zeman, nelle ultime due stagioni alla guida della casertana, formazione eliminata ai ottavi dei playoff dalla Juventus Under-23 che a sua volta aveva eliminato proprio il Delfino, un nome caldo. Eppure quello di Gennaro Volpe è ex entella ma la sensazione è che in corsa per sedersi sulla panchina bianco-azzurra ci siano anche altri mister.